Cari amici, ben trovati, anche quest'oggi un nuovo appuntamento di Se Scrivendo in compagnia di Cristian Floris. Prima di iniziare vi voglio ricordare gli ospiti della puntata precedente, li abbiamo incontrati e abbiamo parlato con loro dei loro bellissimi libri. Ad esempio, 24 quadrifogli era la testimonianza su alcune terribili violenze domestiche di Oriana Temperi Senna con Maria Fiorita Pezzolati. Abbiamo parlato di due amici, una vita, Evandro Straccini ci ha parlato di Chaos Zeidos, Cronache dalla luce di Endors e delle tre corone, parte prima e parte seconda, due volumoni giganteschi ma ricchi di emozione. Carmen De Renzis invece non era nostra ospite ma vi ho parlato personalmente del suo libro, Chiediti perché sono solo e Le scogliere della rovina era invece il libro di Roberta Gian Lorenzi. Quindi vi invito a reperire maggiori informazioni in merito alle pubblicazioni che ho appena citato sul nostro sito web, gruppoalbatrossilfilo.it. Prima di dare spazio alla sigla vi voglio ricordare che è uscita l'antologia di Se Scrivendo, quindi mi raccomando è disponibile in tutte le librerie. Parliamo di tanti libri, è giusto anche parlare di ciò che poi deriva da questo programma che ormai è raggiunto e quasi forse superato le 750 puntate ed è sempre più seguito. Mi arrivano molte vostre mail, vi rispondo sempre, quindi mi raccomando continuate a scrivere, l'indirizzo è sempre Se Scrivendo, chiasola.caosfilm.it. Mi sono dilungato, adesso andiamo ad iniziare con la sigla e poi conosciamo gli ospiti di quest'oggi. Sigla! Grazie!